il crocifisso è il segno del dolore umano la corona di spine i chiodi evocano le sue sofferenze la croce che pensiamo alta in cima al monte è il segno della solitudine nella morte non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino il crocifisso fa parte della storia del mondo natalia ginsburg il crocifisso silenzioso le parole della fede una produzione radio più roma